Dopo il sorteggio dei calendari di ieri pomeriggio, l'Avellino comincerà a lavorare sul prossimo avversario. Si concluderà domani la settimana di allenamento per cominciare lunedì la classica settimana tipo nell'avvicinarsi ad una partita che avrà subito il sapore di Big Match e che potrebbe già dare dei segnali. A Pescara è sfida storica, di tradizione, si può anche dire in una piazza importante che avrà ambizioni importanti nonostante la poca voglia di giocare nel girone C. E quindi il destino gioca subito uno scherzetto ai lupi che domani affronteranno in amichevole il Solofra per quello che sarà l'ultimo test prima del campionato. Alle ore 17.30 al Gallucci si sfiderà la formazione locale Giallo Blu con diretta esclusiva su Prima TV e Tele Nostra. Per quanto riguarda il mercato, il DS De Vito è a lavoro per regalare il bomber. Tanto atteso a Mister Taurino un'accelerata nelle prossime ore ci sarà sicuramente dato che mercoledì chiuderà il mercato. Il weekend o al massimo la giornata di lunedì saranno decisivi in questo senso intanto da registrare una vera e propria trattativa per Riccardo Maniero con la Turris finora proposta al calciatore da parte dei Corallini che nelle scorse ore però hanno approcciato anche con il club bianco-verde per provare l'affondo decisivo all'attaccante classe 87. Da ultime ore potrebbe essere l'altra doppia operazione, l'uscita di Gabriele Bernardotto e l'ingresso di un'altra punta.